vediamo un prodotto per gli amanti del fai da te in generale allora non è niente di particolare sono delle spugne abrasive diciamo con gradi di ruvidità non so come si chiami differenziati comunque in questo caso è una 2005 molto sottile e si dovrebbe arrivare a qualcosa di più grezzo tipo il 320 e sono delle normalissime spugne che possono essere utilizzate per quasi tutti i lavori in questo caso nella descrizione si parla di prodotti per la diciamo levigare pittura e così via però in realtà possono essere usate veramente per tutto la comodità sta proprio nel fatto che siano delle spugnettine molto leggere per cui anche molto flessibili e anche comodi la parte sopra potrebbe anche essere utilizzata con magari non so se avete un supporto in velcro e così via perché nasce proprio per diciamo secondo me con il velcro si attacca molto molto bene poi all'interno visto che comunque un prodotto nato per il mondo della pittura della pittura nel senso dell'imbianchino che pittura a casa ci sono anche dei pennelli la qualità ecco diciamo che forse già si vede non è sicuramente eccelsa soprattutto nella parte del taglio però ripeto sono compresi nel prezzo chiamiamole così per cui tutto sommato potrebbero andare bene vabbè in ogni caso comunque vi lascio il link in descrizione vi invito come al solito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e se vi piacciono contenuti di questo tipo volete restare aggiornati sulle novità di mercato sicuramente vi invito anche ad iscrivervi totalmente gratuito e ci date una mano a crescere grazie e alla prossima